Il mercato italiano è tradizionalmente il nostro mercato principale con circa 500 punti vendita serviti. L'azienda sta sviluppando in questo momento i mercati esteri, in particolare Corea con un distributore, il Giappone pure con un distributore e in un prossimo futuro la Cina, per la quale ci sono già contatti per il 2013, per una distribuzione. I mercati europei nei quali stiamo credendo è la Germania, dove da un agente attuale passeremo a quattro agenti per una distribuzione più capillare. C'è una donna che è già iniziata come distribuzione, attualmente è distribuita in alcuni dei nostri clienti uomo. Per il prossimo inverno invece stiamo preparando una collezione molto più ampia e articolata, con la quale andremo soprattutto in boutique donna. Grazie! Grazie! Grazie!